Calcio mercato riguarda naturalmente il Pescara, ultime trattative, chiusura della finestra estiva alle 20 con il presidente Sebastiani che è salito a Milano, nelle ultime ore chiuse due importanti operazioni, ma per questo ed anche per le ultimissime c'è in studio Massimo Profeta che saluto, buonasera Massimo. Buonasera a te e a tutti gli amici di Misura d'Ascolto, restano scarsi 8 minuti alla chiusura di questa sessione caldissima nel calcio mercato estivo, ebbene il Pescara sta definendo la trattativa con il Cagliari per l'ingaggio dell'esterno d'attacco Jacopo De Sogus, classe 2002, compirà 20 anni il prossimo primo ottobre, il nazionale under 20 è esordito in Serie B con il Cagliari di Liverani, la prima giornata a Como al 55 sostituito da un ex del Pescara Gianluca Lapadula che quest'anno ha innervato l'attacco del Cagliari, si sta definendo questa operazione ma non abbiamo ancora il crisma dell'ufficialità, è stata una giornata importante del Pescara perché proprio nella mattinata di oggi il club ha chiuso con la sernitana l'acquisto a titolo definitivo di Davide Vergani, Edoardo Vergani, chiedo scusa, classe 2001, cresciuto nell'Inter, soltanto 7 presenze lo scorso anno nella sernitana in Serie A, ha giocato anche con il Bologna, giovanili del Bologna, la primavera allenata tra l'altro da Luciano Zauri, è stato il suo tecnico anche esordito in Serie A con Mijailovic in panchina, se ne parlava benissimo nell'Inter caro Paolo, era definito un calciatore molto ma molto promettente, però insomma dall'età può ancora dimostrare le sue qualità, quindi Vergani a titolo definitivo al Pescara, si tratta di un giovane, ripetiamo, promettente. Nei giorni scorsi, in una settimana diciamo propizia sotto questo profilo per quanto riguarda le operazioni d'entrata, Brosco, Tupta e Palmiero, Palmiero che era il regista che mancava insomma come il pane a questa squadra, che non aveva appunto un metronomo, un organizzatore di gioco, tra l'altro un ritorno importante, quello di Palmiero che ha giocato nelle ultime quattro stagioni sempre in Serie B, stabilmente in Serie B, due anni fa, un'esperienza non fortunatissima per il classe 96, soprattutto all'inizio perché ha avuto accusato diversi problemi di natura fisica e comunque Palmiero è un giocatore di proprietà del Pescara, ha firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo. Attenzione perché ci sono tanti esuberi, in questo momento abbiamo contato, io e Giovanni Tottodonati, ne approfittiamo per dare appuntamento alle 20.15 su Rete8, proprio per commentare la fase finale di questo calcio mercato estivo, abbiamo contato 29 elementi. La lista deve essere composta da 24 giocatori, quindi in questo momento non sappiamo quello che sta accadendo a Milano, ci sono 5 giocatori fuori lista, però ripetiamo, i telefoni sono spenti, sia di Delicari che di Sebastiani, sono momenti molto particolari, lo sappiamo, e quindi contiamo di darvi le notizie in tempo reale.